Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale La polizia che protesta contro la sede della Questura all'ex Intendenza di Finanza Auto finisce contro un albero e si ribalta, ferito in modo lieve il conducente Grave invece una donna pesaro investita sulle strisce pedonali Fano dei Cesari, iniziata la posa in opera della sabbia nell'Arena del Pincio Il sindaco Sere firma l'ordinanza no vetro e no botti Da domani a domenica torna a Novi Lara la settima edizione di Tagliatelle al Castello Questa sera dopo il Tg parleremo di sanità con il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Ben ritrovati sul canale 17 del Digitale Terrestre Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca Perché i carabinieri di Fano e di Riccione hanno sgominato una banda di albanesi Responsabile di almeno due rapine e nove furti nella provincia di Pesore Urbino Questa mattina sono stati illustrati tutti i dettagli durante una conferenza stampa E c'era per noi Lino Balestra Sgominata dai carabinieri la banda specializzata in furti e rapine in ville ed appartamenti Tra la provincia di Pesaro e Rimini L'operazione denominata Fake Lupin portata a termine dai carabinieri della compagnia di Fano Assieme ai colleghi di Riccione Ha portato a cinque ordini di custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere Finalizzata a furti e rapine ed a due denunce per favoreggiamento L'indagine Fake Lupin così denominata per il vero nome di uno dei componenti della banda Che si era lui stesso attribuito dopo un viaggio in Albania Suo paese d'origine nel tentativo di ripulirsi Avendo già un nutrito numero di reati a suo carico Le misure cautelariche se dal PM di Pesaro Silvia Cecchi e firmate dal GIP Francesco Messina Sono state notificate a persone già in carcere e che sarebbero usciti a breve per scadenza dei termini Ma ora grazie alle misure richieste dai giudici rimarranno in cella I denunciati sono un cinquantenne albanese residente da vent'anni a Fano Con precedenti per spaccio Il risultato è essere il basista della banda Ben inserito nella comunità e di diversi contesti sociali Senza una fissa occupazione però E che aveva accompagnato i membri della banda Ad acquistare gli arnesi da scasso in ferramenta Pagandoli di persona Ed un cinquantasettenne italiano che aveva affittato alla gang Un appartamento a Fano dove erano stati fermati Nel blizzo notturno dei carabinieri di Riccione Nel quartiere di Gimarra di Fano l'inverno scorso I quattro albanesi, destinatari delle misure cautelari tra i 25 e i 34 anni Erano stati arrestati nel gennaio scorso dai carabinieri di Riccione Dopo una rapina a Saludecio Il quinto, un 41enne anch'esso albanese Che in patria si era cambiato il nome appunto con Lupin In omaggio al celebre personaggio letterario Il ladro Arsenio Lupin Era invece detenuto per altra causa Secondo i carabinieri del nucleo investigativo di Fano Guidati dal tenente Luigi Grella Sarebbe stato proprio lui il capo dell'organizzazione Anche in questo caso la collaborazione del cittadino è stata premiante E noi ringraziamo tutti coloro i quali ogni volta notano qualcosa di sospetto Chiamano il 112, vengono in caserma o fermano la nostra pattuglia Effettivamente ha fatto la differenza Perché se non fosse stato per questo bravo cittadino Che oltre ad aver visto e osservato per lungo tempo Quello che di strano effettivamente stava avvenendo sotto casa sua Sicuramente non potevamo mai raggiungere questi risultati lusinghieri Possiamo dire che grazie alla perfetta sinergia con i colleghi pareterici del nucleo operativo della compagnia di Riccione Il fenomeno dei furti in abitazione è stato infrenato in modo significativo Questo ce lo dicono i dati Il trend dei furti in abitazione in Fano ma più in generale nella provincia di Pesero Urbino è in netto calo La vera svolta delle indagini quindi l'hanno data con le loro segnalazioni alcuni cittadini Vittime loro stessi di furti che hanno fornito ai carabinieri Date e circostanze che hanno consentito di intercettare la brutta coppia di Lupin Alla guida di una vecchia Fiat Stilo Blue Intestata ad un romano prestanome con precedenti penali Con altre 200 auto intestate e utilizzata dalla banda Per compiere gli spostamenti ed i sopralluoghi prima dei colpi Come le tante segnalazioni dei cittadini avevano denunciato Un'auto finisce contro un albero e si ribalta su un fianco È successo questa mattina a Fano poco prima di mezzogiorno In via Stienti è la strada che dal cimitero di Rosciano conduce in via Flaminia Un sessantenne del posto era a bordo di una lancia Y Quando per cause ancora in via di accertamento ha urtato con la ruota anteriore destra La base di una grossa pianta apposta ai limiti della carreggiata Per il contraccolpo l'auto si è rovesciata su un fianco Un passante che ha aiutato l'uomo a uscire dall'abitacolo ha allertato il 118 Il sessantenne si è ferito all'avambraccio destro Probabilmente a causa dei vetri del finestrino rotto Sul posto oltre a un'ambulanza sono intervenuti i vigili del fuoco La polizia locale e un carroattrezzi per rimuovere il mezzo Un altro incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9.15 Nella rotatoria dell'interquartiere a Santa Veneranda a Pesaro Per cause ancora al baglio della polizia locale Una signora sui 50 anni badante di una famiglia pesarese È stata investita da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali Nell'impatto la donna è stata scaraventata a metri di distanza E fin da subito le sue condizioni sono apparse particolarmente gravi Sul posto è intervenuta l'eliambulanza che l'ha trasportata all'ospedale regionale Torrette di Ancona La rotatoria è rimasta bloccata al traffico per circa mezz'ora E continua a far discutere la realizzazione della nuova questura all'ex intendenza di finanza Questa mattina il SIULP, il sindacato di polizia è sceso in piazza del popolo Per protestare contro la scelta della nuova sede Il servizio di Stefano Mascioni Siamo in piazza del popolo dove fra qualche minuto andrà in scena una protesta della polizia Che non accetta la nuova soluzione scelta per la questura Quella che vedete alle mie spalle invece è attualmente il palazzo dove è ospitata la questura Palazzo che è stato venduto dalla provincia e che quindi la questura dovrà lasciare La sede trovata per la questura è dall'altra parte della piazza È il palazzo dell'ex intendenza di finanza Che però nella sua base, nel suo basamento ha dei negozi E questo creerebbe sicuramente dei problemi Anche se il sindaco Ricci ha proposto una soluzione provvisoria Per far stare i negozi in un box costruito all'interno della piazza durante i lavori Secondo i poliziotti questa non è la soluzione ottimale Andiamo a sentire il perché Perché protestate oggi? Noi avevamo già evidenziato dei problemi Problemi di parcheggio perché il progetto non prevedeva all'interno dell'ex intendenza Un parcheggio per le macchine di servizio della polizia Che in pratica i negozi sottostanti dell'ex intendenza di finanza rimarranno in quel luogo Ossia noi con questo progetto costruiremo Credo che sarà l'unico caso in Italia Una questura sopra degli esercizi commerciali Quindi noi, una questura che è un obiettivo militare Un obiettivo molto sensibile In un momento come questo in cui l'allarme terrorismo è ancora molto elevato, molto alto Noi chiaramente la questura dobbiamo difenderla, tutelarla Mettiamo delle telecamere tutto intorno Anche l'accesso alla questura è regolamentato Controlliamo tutte le persone, tutti i mezzi che entrano Noi come sindacato abbiamo proposto come soluzione alternativa la sede della provincia Per un motivo semplice che abbiamo saputo che da 600 dipendenti Di dipendenti sono passati a 200 Quindi la provincia è molto sottodimensionata, sottoutilizzata in questo momento Io credo che nella sede della provincia attualmente ci siano gli spazi per tutti Noi non vogliamo mandare via nessuno Il dilemma di dove collocare la nuova questura a Pesaro si trascina da anni E oltre che un problema di sicurezza e di efficienza del servizio Con il tempo è diventata una partita politica Che ha fatto arrivare la questione fino in Parlamento Il nostro vice presidente del Parlamento Fabio Rampelli L'onorevole Fabio Rampelli Ha preparato una interrogazione nel merito E' già intervenuto pubblicamente qui a Pesaro Appoggiando questa battaglia E questo sembrerebbe che ha messo una certa fretta al sindaco Ricci Che probabilmente teme un intervento del governo Che venga a bloccare una sua posizione Che è completamente opposta e contraria alla polizia di Stato Malgrado la protesta del Siul però I giochi sembrerebbero fatti Come spiega lo stesso sindaco di Pesaro, Matteo Ricci Ogni protesta ovviamente è legittima Ma il problema è che sono 30 anni che protestano Perché non c'è la nuova questura Finalmente dopo tanti anni di chiacchiere Abbiamo trovato un finanziamento dello Stato da 6 milioni e 2 Su un bene dello Stato l'ex intendenza di finanza Che è decrepito da 20 anni Abbiamo superato una serie di problemi burocratici e progettuali Fin ultimo l'accordo con i commercianti qualche giorno fa Per il trasferimento temporaneo Quindi tutti quelli che vogliono veramente la questura Sanno che l'unico posto è lì Abbiamo anche risolto il problema dei parcheggi Grazie alla collaborazione del prefetto Per l'utilizzo parziale del cortile E quindi insomma si va avanti C'è un accordo di qualche anno fa Ministero degli interni, prefettura, comune e questura E quindi chi vuole veramente la questura Sa che questa è l'unica soluzione Chi invece non vuole continuare a risolvere i problemi Per continuare poi a protestare Legittimamente può protestare Ma noi dobbiamo fare i fatti e non le chiacchiere E sul tema della questura Sono 30 anni che si fanno le chiacchiere Ancora cronaca Un incendio forse scaturito da scintille Di saldatura e divampato In un'officina meccanica per Amottorini In via Faggia Pesaro Accortosi delle fiamme e del fumo Che si stava propagando L'addetto che stava lavorando in quel momento Si è messo in salvo Uscendo dalla porta posteriore del locale Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco Per spegnere le fiamme Non si registrano persone ferite Neanche evacuati negli appartamenti del palazzo Che ospita l'attività interessata dall'incendio Nell'immobile è mancata l'energia elettrica E si è reso necessario l'intervento Dei tecnici dell'Enel Per ripristinarla Ancora un incidente ma autonomo Nella pomeriggio di oggi A Fano intorno alle ore 16 Una ragazza a bordo della sua auto Stava percorrendo la superstrada In direzione mare Nel tratto compreso tra Bellocchi e Fano Sud Quando ha perso il controllo del mezzo Finendo contro il guardrail La giovane è stata trasportata Al pronto soccorso del Santa Croce In codice verde Si sono stabilizzate invece Le condizioni di Marco Talamelli Il 28enne Ricoverato al Torrete di Ancona Dopo un incidente in moto Avvenuto l'altra sera Lungo alla Flaminia a Carrara di Fano Il giovane aveva perso il controllo del mezzo Dopo essere finito con la ruota Anteriore in una buca Dopo lo schianto Le sue condizioni erano apparse Fin da subito gravi Oggi il padre Che gestisce una concessione bagnare a Fano Ha pubblicato un post nella sua pagina Facebook Ringraziando tutti coloro Che hanno dimostrato vicinanza a Marco Attualmente le sue condizioni sono stabili Ha precisato E lo tengono sedato C'è stato un nuovo prelievo multiorgano All'ospedale di Fano Sono stati donati reni e fegato Una speranza per altre persone Terzo prelievo multiorgano Dall'inizio dell'anno Al Santa Croce di Fano I familiari di una paziente ricoverata E deceduta in reanimazione Hanno acconsentito Alla donazione degli organi Ieri mattina Sono iniziati gli accertamenti L'attività di prelievo È proseguita poi nel pomeriggio Per concludersi nella nottata E si è svolta nel blocco operatorio Del presidio Dove era pronta un'equip interamente dedicata Le procedure sono state condotte Dai professionisti Della rianimazione Della neurologia Dell'anatomia patologica E della direzione medica In collaborazione con il personale Medico infermeristico E del blocco operatorio Il collegio medico E l'equip esterne Sono intervenute invece Per le procedure di prelievo E donazione degli organi Un riconoscimento particolare Per l'estrema sensibilità E generosità Dimostrata in un momento Così doloroso Dai familiari Della signora deceduta Hanno commentato i medici E l'impegno di tutti I professionisti della salute Ha reso possibile Ancora una volta Riaccendere la speranza Per altre vite Le donazioni di organi Sono un indice di qualità Delle strutture sanitarie Hanno concluso E i risultati ottenuti Ne qualificano l'attività Ve lo abbiamo annunciato Questa mattina In rassegna stampa Ma vorrei riproporvi il video Eccolo qua Girato da una nostra Reporter di strada A Pesaro Relativo all'incendio Di un cassonetto Della raccolta Differenziata Dopo la scena di incendi Dei giorni scorsi A Fano La notte scorsa Vigili del fuoco Sono dovuti intervenire Nella città di Rossini Per domare Le fiamme Sprigionatesi Da un cassonetto Della carta Situato vicino Alla sede della CGL Sulla strada nazionale Adriatica Nella certà Della fortuna Invece Un altro contenitore Della carta Era stato dato Alle fiamme Due notti fa In Viale Cesare Battisti Nella zona mare Qualche sera prima I gnoti Avevano incendiato Quello in Viale Adriatico Sul lungomare Di Sassonia E un altro reporter Di strada Oggi pomeriggio Ha inviato le fotografie Che vedete Alle mie spalle Queste foto Sono state scattate Da Ponte Sasso E riguardano Il rio Crinaccio Dopo la pioggia Ecco dall'alto Vedete Si vede bene Questa macchia nera Ed ora torniamo A parlare Della Fano Dei Cesari Perché nella zona Del Pincio È iniziata La posa In opera della sabbia Posizionate anche 600 balle Di paglia Siamo nell'area Del Pincio Dove questa mattina Sono iniziati I lavori Di posa Della sabbia Quindi Etienne Un Pincio Che l'arena Sta prendendo Sempre più Forma E dimensione Sta prendendo forma L'arena Oggi pomeriggio Inizierà a prendere forma Gli accampamenti L'area del Pincio Sta già prendendo forma Tutta l'area Del San Michele Con l'antico Macellum Quindi ovviamente Siamo in fermento Per la preparazione Di questo evento Che da domani Partirà Con dei numeri Anche importanti Stamattina sono arrivate Più di 600 balle Di paglia E altre 600 Ne arriveranno Per chiudere Il percorso Domenica Circa 500 metri Cubi di sabbia Che verranno stesi In questo percorso Con delle aziende Ovviamente Specializzate Su questo tipo Su questo tipo Di lavorazione E quindi Una città Che si sta muovendo Pronti Per questo evento Che si pronuncia Con tanto fermento Direi di sì C'è tanto Tanto rumore Nell'aria E questo fa bene Quanto è il manto Lo spessore Lo sai Te l'hanno detto Sì sì assolutamente Rispettiamo Quelle che sono Le disposizioni Di norma Quindi al centro C'è un minimo Quindi il punto minimo È 20 centimetri Di sabbia pressata Ovviamente Dovendo mantenere Il manto Livellato Perfettamente In alcuni lati Arriviamo anche Ai 40 centimetri Per rispettare Anche un piano Che serve poi Anche per le attività Di questi primi giorni Ma anche i cavalli Poi percorrere Nella giornata di domenica Nella giornata di domenica Poi l'anello Verrà chiuso Anche la statale Verrà interessata Per il breve periodo Della corsa Naturalmente Sì sabato notte Finita Baccanalia Ovviamente i vigili Chiuderanno la strada Che verrà subito Presa Inserendoci la tribuna E poi Chiudendo l'anello Con paglia Transenne Sabbia Come previsto Da tutti i piani Di sicurezza Per fare in modo Che chiudiamo l'anello E diamo il via Anche all'ultima giornata Che prevede La grande parata E la corsa delle bighe E in occasione Della Fano dei Cesari Sindaco di Fano Massimo Seri Ha firmato Un'ordinanza Con la quale Dispone per domenica 15 luglio Dalle 18 alle ore 24 Il divieto Di vendita Di bevande In bottiglie Di vetro In tutto il centro storico E in un raggio Di 200 metri Dalla zona del Pincio Come potete vedere Dall'area color rosa Nella planimetria È vietato inoltre L'uso di bevande In contenitori Diversi dalla plastica All'esterno Degli esercizi pubblici In tutto il centro storico E sempre in un raggio Di 200 metri In zona Pincio Infine Il divieto D'uso Nella stessa area Di botti Di petardi E di fuochi D'artificio Di qualunque dimensione E classificazioni I trasgressori Potranno incorrere In sanzioni Ancora fanno Dei cesari Questa sera Si svolgeranno Delle iniziative culturali Ci sarà un viaggio Alla scoperta Delle origini Delle mura augustee Che da migliaia di anni Proteggono la città Due momenti programmati Il primo Alle 21.15 Alla sala San Michele All'arco d'Augusto Con la serata vitruviana Che si svolgerà In due tempi Nella prima parte Il professor Oscar May Dell'Università di Urbino Terrà una conferenza Durante la quale Illustrerà La rispondenza Tra il dettato vitruviano In merito alla costruzione Di mura Dalla quale Si potrebbe avanzare L'ipotesi Di una possibile attribuzione A vitruvio Del prestigioso monumento Nella seconda parte Alcuni ragazzi Del liceo classico Daranno vita Ad una lettura Scenica Di brani Di brani Del De architettura Di vitruvio E verranno accompagnati Dal pianista Filippo May L'altro momento È previsto invece domani Alle 21.15 A Palazzo Corbelli In via Arco D'Augusto 47 Dove il professor Francesco Milesi Terrà una conferenza Dal titolo La moneta romana Imperiale Cenni storici E iconografia Da domani invece Si entrerà Nel vivo Dell'evento Con gli accampamenti I giochi E le sfide Fra le quattro fazioni I protagonisti Saranno i bambini Con la fano Dei cesarini In città Si respira Ogni minuto di più L'aria Dell'antica Fanon Fortune Con la manifestazione Che sta entrando Nel cuore Dei fanesi E dei turisti Che già dal primo giorno Dell'inaugurazione Si sono immersi In usi e costumi Di oltre 2000 anni fa Domani Giovedì 12 luglio Sarà la giornata Dedicata ai più piccoli Con la fano Dei cesarini Organizzata dal Comitato Genitori Sant'Orso I baby romani Divisi ovviamente Anche loro In base alle fazioni Di appartenenza E con a capo L'auriga La più piccola E quella del cinghiale Di ben due anni Si ritroveranno In piazza 20 settembre Alle 18 E da lì partiranno Per una sfilata Che li condurrà Al pincio Ad attendere i cesarini E i loro accompagnatori Ci saranno Il gruppo storico Giulia Fanestris E lì il gruppo Simmachia Ellenon Che faranno Immergere Adulti e bambini Nella meraviglia Dell'antica Roma E della Grecia antica Con didattiche E approfondimenti Alle 19.30 Via Via ai primi giochi Con le sabbie Della fortuna E dalle 20.15 La tanto attesa E divertente Corsa delle bighette Alla colonia Iulia Fanestris Quest'anno Il compito Di ricreare Una domus romana Ed il macellum L'antico mercato Allora Fra poche ore Adesso qui I preparativi Sono ancora in corso Ma si trasformerà In un vero mercato All'epoca di Romagna Sì Siamo quasi pronti Stiamo allestendo Gli ultimi banchi Faremo rivivere Quello che era Un macellum Ovvero L'antico mercato Di Fano Un fortuna E quindi potremo vedere Quello che Due mila anni fa Si poteva Appunto assistere Passeggiando nel macellum Acquistando merci E avere le mercanzie Più varie Addirittura anche Le mercanzie Di uomini Quindi vendita Degli schiavi Qui verrà ricreato Il cortile Di una casa romana E su questo cortile Potremo vedere A lato Tutti i triclini Quindi con I romani Che erano Sdraiati Sui triclini E avevano le ancelle Che portavano La frutta E vari cibi Qui invece All'interno Del portico Avremo degli spettacoli Avremo La danza del ventre E avremo Una suonatrice Di arpa Quindi ecco Durante le serate Di giovedì E di venerdì Si alterneranno Questi spettacoli E anche il sabato Che il sabato Finiremo un po' prima Perché poi c'è Lo spettacolo Ecco Questo un po' È il programma All'interno Della Domus Però la colonia Sarà impegnata Anche in uno spettacolo In esterna Da questa Domus Si Faremo uno spettacolo Proprio sotto L'arco d'Augusto Uno spettacolo Sul fuoco Sull'importanza Del fuoco Nell'antica Roma Uno spettacolo Arricchito Con Con la danza Con la recitazione E con il racconto Del mito di Vulcano Che era il dio del fuoco Tutto questo Il sabato Che ora Tutto questo Avverrà il sabato Intorno alle 23 Della colonia Iulia Panestris E della Simachia Eleon E adesso Ci spostiamo A Pesaro Perché domani Prenderà il via La settima edizione Di Tagliatella Il Castello Quest'anno Torniamo Alla settima edizione Da giovedì A domenica A Novilara Sarà un grandissimo Momento Per rimangiare La tradizione Ma rivivere Anche qualcosa Di più contemporaneo Più divertente E fresco Per l'estate Avete messo a punto Un programma Anche quest'anno Interessantissimo Qualche accenno Sì Ogni anno Ci divertiamo A cercare A stuzzicare Anche i fruttori E l'evento E soprattutto Noi facciamo Un gran lavoro Dietro Quest'anno Il venerdì Ci sarà Una cosa fantastica Che è un pianoforte Di 8 metri per 3 Loro si chiamano Il grande piano Sono di Cremona E faranno uno spettacolo Suonando il pianoforte Con i piedi Quindi ballando Sui tasti E poi avremo Degli artisti internazionali Ci sarà Ildor Che è un artista Di circo Di strada E fa degli spettacoli Con delle acrobastie Sulla bicicletta Quindi c'è C'è tanto di più Oltre le tagliatelle Poi ci sono altri spettacoli Ovviamente musica Concerti E cooking show Le giornate quindi sono Ripetiamolo Per chi vuole Farsi un cerchietto rosso Sul calendario La festa inizia Venerdì 13 Sabato 14 E domenica 15 luglio Tutte le sere A partire dalle 19 Fino a notte fonda Allora il cibo Oltre agli spettacoli Però è una parte Trainante di questa manifestazione Quindi cooking show E anche Insomma La buona tavola Assolutamente sì Infatti io ringrazio Jacopo E tutta l'associazione Per avermi coinvolto Nell'organizzazione Di questa festa Mi sono occupata Della parte Di spettacoli Inerente appunto Alla cucina E abbiamo inserito Ogni sera Quindi uno spettacolo Di cucina Partiamo il venerdì Con un cooking show A quattro mani Dedicato a Rossini Ovviamente Per il suo Centocinquantesimo anno Dell'anniversario Della morte E poi si passa Il sabato Invece con uno spettacolo Che riguarda La tradizione Quindi si sfideranno Delle ricette tradizionali Della nostra provincia Con una giuria tecnica E una giuria popolare Che poi decreterà Un vincitore E poi concluderemo Il weekend Con un cooking show Dedicato alla ciliachia Quindi una tematica Molto importante Che insomma Faremo quindi Vedere come si fa La tagliatella Per senza glutine Sughi per le tagliatelle Insomma Immagino i classici Ma allora Il must have Di Novilara Ovviamente La tagliatella Con i fazzoli Poi ci sarà La tagliatella Al ragù Ma per i cooking show Ci saranno Dei sughi particolari Quindi non vi svelo niente A me piace sentire Il sapore delle cose Un viaggio Nei ricordi È venuto a Fano In una pasticceria Al 7 luglio scorso Dove dopo 43 anni Gli alunni Provenienti da Sant'Angelo Allesca In provincia di Avellino In campagna Dopo un lungo viaggio Hanno riabbracciato La loro maestra Elda Datri L'incontro È stato molto emozionante Ci hanno raccontato I protagonisti E tra ricordi Foto Racconti E lacrime Maestra Ed ex alunni Hanno felicemente Trascorso Alcune ore Insieme Vi ricordo Che subito Dopo il telegiornale Andrà in onda Un approfondimento Dedicato alla sanità Con il presidente Della regione Marche Luca Ceriscioli Dunque Pochissimi minuti Di pubblicità E poi ritorniamo qua Negli studi Di Fano TV A fra poco A fra poco